Sarà il modo per scoprire in diretta la storia più bella, la nascita di Gesù Bambino. Gli uffizi propongono per Natale sale virtuali dedicate ai più piccoli. Esperti del Dipartimento per l'Educazione racconteranno la natività davanti a due capolavori dell'arte a scelta, selezionati tra le opere delle gallerie fiorentine da una lista natalizia via web. Alla sala potranno accedere al massimo 10 bambini, ognuno per un costo di pochi euro. E se non ci sono ragazzi in casa si potranno invitare amici e parenti lontani come un'originale idea regalo, oppure utilizzare questo spazio per riunire famiglie che vivono in regioni diverse o addirittura all'estero. Tutti potranno ascoltare o interagire con il narratore. Le spiegazioni potranno essere anche nella lingua italiana dei segni o in altre lingue europee. Da Leonardo a Dürer, da Gentile da Fabriano a Luca Giordano, in una quarantina di minuti il Natale nell'arte verrà spiegato nei suoi valori più autentici, diventando conforto e speranza in tempi difficili come questi, unendo affetto e conoscenza in occasione della festa più amata dell'anno. Grazie a tutti.